Professor Ferrari, è stata una battaglia bella combattuta, non è andata come lei sperava. A questo punto un suo commento caldo e un augurio alla nuova rettrice, la prima donna al vertice dell'insume. Il commento è che è stato comunque un viaggio bellissimo, abbiamo avuto dei riscontri molto positivi, è stato bello, entusiasmante e alla nuova coppia facciamo auguri di buon lavoro.